Notiziario dal fronte francese. La guerra prevalentemente di posizione che si conduce su ambo i fronti non esclude gli atti di valore e il comando francese ha già avuto occasione di distribuire le corazioni a combattenti che si sono distinti nell'adempimento del dovere. Le truppe stanziate sulla frontiera del Reno sono state onorate da una visita del presidente del consiglio e ministro della guerra Daladier che ha fatto una sua seconda apparizione sul fronte inoltrandosi ad ispezionare le opere difensive stabilite lungo il corso del fiume e particolarmente le fortificazioni che sorvegliano la testa di Ponte di Kel. Un altro visitatore illustre nelle prime linee del fronte d'Alsazia già battuto da tempeste di pioggia e di neve è stato il maggior generale duca di Winsor che accompagnato dai generali francesi ha studiato ed esaminato le posizioni che gli alleati occupano saldamente. Grazie. 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 Grazie a tutti.